Carrie, dove stai andando così di fretta? Sei in ritardo per una consegna, eh? Carrie, hai sentito la sirena? Sembra che Bobby sia in difficoltà. Che succede, Bobby? Bobby, gli squali ti hanno seguito dall'oceano. Stai attento! Carrie, Bobby non riesce a sentirti. Guarda bene la strada che stai... Carrie! Cub, Carrie e Bobby sono in pericolo. Carrie è caduta dal ponte, è atterrata su una linfea e ora è nel mirino degli squali. Devi riuscire a salvarli, fai veloce! Guarda, Carl, Carrie è laggiù! Oh no, con l'apertura del ponte gli squali saranno liberi in un minuto. Fai veloce, Carl! Sai già in quale veicolo trasformarti per salvarla? Ehi, come un buco! Grazie a tutti. Una barca? Ma certo, è un'eccellente idea! Carrie, guarda chi c'è! Non dimenticarti degli squali, meglio fare attenzione! Oh, oh! Bobby, il supercambio non ha bisogno che tu rimorchi, Carrie arriva! Tieni duro, Carrie! C'è un'eccellente idea! C'è un'eccellente idea! Devi sbrigarti, Bobby! Stanno arrivando! Anche tu, Carl, devi agire in fretta! Eccellente idea! Naturalmente puoi usare il tuo ST3000! Veloci, ragazzi! Wow, supercamion! Sta funzionando! Sta mandando via gli squali! Continua! Wow, supercamion! Sei riuscito a spaventare gli squali e a mandarli via! Ben fatto! Grazie per il tuo aiuto, supercamion! Hai ragione, Bobby! È meglio che questo canale diventi un luogo più sicuro! È un'ottima idea, supercamion! Usiamo una rete! Divertitevi, ragazzi!